ciao a tutti e bentornati sul canale del garante in questo nuovo video andiamo a vedere un comando molto utile che si chiama elimina duplicati che vuol dire vuol dire che noi andiamo a selezionare tutte le linee della struttura per esempio io ho questo lavoro qui che lavoro della mia tesi di laurea seleziono tutti gli elementi come vedete ci metterà un pochino anche perché sto registrando digitola tastiera elimina duplicati clicco invio e come vedete ora autocad apre questa finestra qui questa finestra qui come funziona vedete c'è di default vi apre questa impostazioni in confronto degli oggetti vi dice la tolleranza dice quali proprietà degli oggetti dobbiamo ignorare ovvero colore layer tipo di linea e altre cose e le opzioni quindi ottimizza segmenti un po le linee in una larghezza segmenti e altre cose che potete leggere e levare se voi lo fate così di default vi rimuove solamente le linee dello stesso layer che avete una sopra l'altra poi andiamo a vedere nel dettaglio che vuol dire quindi se io clicco ok guardate cosa fa trovato 72.537 elementi vedete qui il report ci dice 198 elementi duplicati eliminati 1266 oggetti o segmenti sovrapposti eliminati quindi questo diciamo il report del comando che abbiamo appena fatto quindi questo che vuol dire come funziona questo comando andiamola a vedere in scala più ridotta per esempio se io faccio due linee con questo layer armatura longitudinale pali di fondazione faccio una linea quindi tasto sinistro tasto sinistro invio rifaccio la stessa linea sopra ok quindi tasto sinistro invio seleziono questo digito vi faccio vedere anche come si fa in inglese underscore quindi trattino basso e scrivo overkill vedete qui vi fa il comando in inglese che è la stessa cosa vedete qui se voi cliccate ok chiaramente vedete un duplicati eliminati zero oggetti o segmenti sovrapposti eliminati quindi ci ha essenzialmente eliminato la linea che aveva lo stesso layer sopra un'altra linea aveva lo stesso layer andiamo a vedere lasciando questa linea qua e facendo un altro layer quindi per esempio il layer baggiolini io clicco da questo punto a questo punto e premo invio seleziono la struttura le due linee appena fatte quindi elimina duplicati premo invio se clicco ok adesso vedete non ha eliminato nessun elemento perché perché chiaramente questi sono due layer diversi quindi io che cosa faccio seleziono nuovamente la mia struttura premo su con la freccia su e mi richiamo il comando usato in precedenza premo invio adesso io per esempio dico ignora proprietà oggetto layer e clicco su ok vedete in questo caso ha eliminato un duplicati elementi quindi ha eliminato effettivamente una linea quale però ha eliminato qui la linea che era stata fatta per prima vedete baggiolini è rimasto ora adesso io voglio per esempio fare un'altra linea con ringhiera per vedere se effettivamente la seconda linea che viene tracciata che rimane clicco invio adesso se io seleziono qui ho effettivamente due linee vedete rifaccio il comando quindi premo su 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 elimina duplicati seleziono gli oggetti premo invio lascio spuntato layer clicco ok e vedete che effettivamente ci ha lasciato ringhiera quindi se fate questo comando perché avete linee di più layer sovrapposti dovete ricordarvi che la linea che viene eliminata è la linea che viene fatta per prima quindi la linea viene fatta dopo viene lasciata poi ci sono avete visto anche altri comandi che possono essere spuntati per esempio colore tipo di linea scala tipo linea quindi in base a quella che è la vostra esigenza potete cancellare queste linee sovrapposte per cui direi che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale cliccare sulla campanella e su tutte alla prossima ciao ciao